Ciao a tutti ragazzi, sono Vando del Neverfield Team Card Gaming e oggi vi porto questa deck profile di Migrabrezza con cui ho vinto il local di ieri da Chimera a Modena e partiamo subito con la lista Dunque, tre copie di Migrabrezza rondina e questa è quella che va a cercare un livello 4 inferiore bestialato dal mazzo Poi, ovviamente, l'altro 3 per di Migrabrezza e Acqui, questa invece è quella che cerca, la bestialata livello 7 superiore Due copie di Ostri, e Ostri rimuove dal cimitero una carta, da qualsiasi cimitero, nostro o dell'avversario e come tutti gli altri Migrabrezza, per chi non li conosce, permette di fare una normale in più Inoltre, gioco una copia di Tukkan, che permette di riaggiungere una carta Migrabrezza delle Bandite Dopodiché, andiamo avanti con una Statua del Vento Un Ampen e Migrabrezza, diciamo il boss monster di Migrabrezza, ma comunque non è l'unico, non è l'unico boss del mazzo Diciamo che comunque è Migrabrezza che permette di cercare un'altra carta Magio Trappola, Migrabrezza, dal deck alla mano Quindi ci permette di addare quello che serve Poi un altro gigantone che è Raizal Mega Monarca E per finire un Aviano Sommo della Valle delle Nebbie Che è il Neghino, diciamo Questo mazzo non ha tantissimi neghini Ma quando ce n'è bisogno può calare Aviano E certe volte si può anche negare qualcosa e poi rimetterlo in campo Nello stesso turno, quindi avere comunque un Neghino sempre pronto Dopodiché, per quanto riguarda, diciamo, tutte le nostre bestialate Dopodiché, ho giocato e gioco nel 3x di Ashe Molti lo considerano una carta ormai non più molto rilevante Però è una carta che secondo me è veramente forte E certe volte stoppa l'avversario E poi comunque torna sempre utile Anche contro Gamma, permette di negare Gamma Anche a volte Gamma può essere fastidioso contro questo mazzo E avere Ashe in mano può essere un bel vantaggio Poi l'altra Entrap è scorridore dimensionale Ha una bella sinergia con il mazzo Va dal fastidio ad altri mazzi E permette di avere il cimitero vuoto, abbastanza vuoto Ed è possibile anche a volte fare un loop di scorridore Con Raiza E ribalzandoselo in cima al mazzo E pescando il turno dopo per poterlo riattivare Comunque una carta veramente forte Che dà fastidio a tanti mazzi Poi, ora passiamo alle magie La carta più forte di Migrabrezza Che è la mappa E questa è quella che permette di rivelare Un bestialata a livello 1 Inferiore Flanderizza nella mano E bandire una carta Migrabrezza con un nome diverso Evocare Normal quello e partire con la combo In pratica E quando l'avversario evoca Normal Permette di fare Normal Quindi Una carta veramente forte del mazzo E l'altra spell di Migrabrezza E' una coppia dei venti inesplorati Che può essere un peschino Quando serve pescare E l'altra cosa più bella ancora E' che permette di usare una carta dell'avversario Come tributo per le evocazioni Tramite tributo che facciamo La carta veramente più forte del mazzo E' Prosperity Il 3x di Prosperity Che permette di vedere Qualunque carta serva nel mazzo Praticamente E' sempre La top card questa La best card anzi E Permette sempre Più o meno sempre Di trovare quello che ci serve nel mazzo Rivela le prime 6 Magari ci serviva proprio Una carta sola Ci basta Una carta per partire Grazie a questa Vediamo 6 carte del mazzo E Quasi sempre Si trova sempre quello che serve Poi Due copie Di Duality Solo 2 non 3 Perché gioco anche una copia di Extravagance E Niente Devo dire che mi trovo molto bene con questo Diciamo con questo numero di peschini Con Le 3 Prosperity 2 Duality E 1 Extravagance E Diciamo che per ora non lo cambierei Mi sono trovato bene giocandole così E non Ho provato a giocarle così E non le cambierei ancora Quindi per ora Mi trovo molto bene Molto soddisfatto Poi Ovviamente Per questo mazzo I 3 Book of Moon E Servono per prepararsi Da Impermanence O da Veiler E permettono anche di Difendere la propria statua L'avversario non può fare special Se non vento Deve per forza fare normal Se non abbiamo la terreno in campo Non riusciamo a fare la normal Non ci viene bloccata Comunque Con Book of Moon Si flippa Il mostro Dell'avversario Che vorrebbe attaccare la statua E Si sopravvive un turno Dopodiché Diciamo che Questa è l'ultima aggiunta Che ho fatto al mazzo E ieri mi è tornata Veramente utile Ed è Il disegnatore del depennamento Crossout Giocando Ash Che in questo mazzo Fa abbastanza male E non è una carta Che possiamo negare Con Shifter Negare nel senso Sotto Shifter L'avversario non può fare Droll E poi io gioco anche Questa Che è Spaccatura dimensionale Quindi Con questa sul campo Anche con questa sul campo L'avversario non può fare Droll E non può fare nemmeno Veiler Quindi Le carte più fastidiose Possono essere Impermanence O Ash E in questo caso Con Crossout Con due crossout Tre sono Trova sono tanti Ne avevo provati online E non mi sono piaciuti Ma due Sono giusti Che Quando Quando capita di averlo in mano L'avversario C'ha una Entraff Sono molto utili E poi ovviamente L'altro Un altro Neghino È richiamato Dalla tomba Diciamo che Non fa la stessa cosa Di crossout Però È comunque forte Un po' Va Va contro Shifter E contro Spaccatura Perché Se l'avversario Tipo fa Ash Colled È inutile Averla in mano Perché La card Ash viene bandita Quindi non si può fare Colled Però comunque È una carta Che torna sempre Comoda Anche per non bandire Entraff Ma per bandire Contro Eldritch Bandire Eldritch Contro altri Mazzi Che giocano Con il cimitero Quando non vediamo Shifter Può tornare utile Per negargli le cose E Diciamo che I due crossout E un colled Per me Un'orario giusto Due Uno Ci può stare Poi ovviamente Questa uno Per forza Però Sì Queste tre Sono troppi Tre secondo me Sono troppi Due Vanno molto bene E Anche vabbè In mirror Nighi Qualunque cosa Ti serve di negare E Niente Mi sono veramente Trovato bene Perché appunto In perma La neghi con questo Asce La neghi con questo Un'altra carta Che gioco io Che è Dark Ruler Ne gioco Uno di main Anche sotto Dark Ruler Magari l'avversario Fa Dark Ruler Perché abbiamo La statua Il pinguino Oppure L'aviano Fa Dark Ruler Lo possiamo andare A negare Con crossout Quindi Altra carta Che può essere Scomoda per noi E Che comunque Io gioco in monocopia Ovviamente Monocopia Spolverino Dell'arpia La gioco di main Sia come target Di crossout Sia perché Quando capita di Partire a secondi Almeno Uno spacchino Mi serve Stessa cosa Vale per Dark Ruler E Principalmente Con questo mazzo Cioè Assolutamente Con questo mazzo Si va primi Quando capita Di perdere il dado E di dover andare a secondi Al primo turno Almeno Una auto Ai mostri Nel mazzo C'è E almeno Una auto Magia e trappole C'è Poi Se la si vede Bene Se non la si vede Ci andrà Game 2 Oppure Se Se magari Con Con Prosperity Si ha la fortuna Di rivelare Una delle due E' sempre Una cosa bella E anche Queste target Di crossout Magari Abbiamo fatto Un bel campo C'è la terreno C'è la magia C'è la trappola Anche settata Ci abbiamo anche Settato in permanence Perché non negare Spolverino Con crossout Quindi Una carta utile Poi Mono Minamistica Nel caso Capitasse Di andare Secondi Al primo turno C'è un'altra Out Ai mazzi A un po' A tutti i mazzi Diciamo Ed è Minamistica Stesso ragionamento Sempre per crossout Nel malaugurato caso Ci troviamo a giocare Contro un mazzo Che gioca Minamistica E può essere utile Avere crossout Nel gare Minamistica Ultima monocopia È Terraformare Per cercare Mina Quando serve O la terreno Dei Flander Quando non è in mano E vabbè Questa Non l'ho Spiegata prima Però Spaccatura Appunto Per le Entrap E per dar fastidio Tanti mazzi Andando primo E queste sono Le magie Passiamo alle trappole Che ne gioco altre tre Sono Migrabrezza E il paese dei sogni Che permette di fare Una normal Nella main phase O mio Dell'avversario Principalmente In quella dell'avversario E il 2x Di imperma Non tre Perché anche questa Tre coppie Mi sembravano troppe Andando primo Principalmente Avere tre coppie Di imperma Era sempre un brick Quindi preferisco Giocarne due E appunto Anche questa È un target Di cross out Quindi Assolutamente La gioco Dopodiché Passiamo all'extra deck Per quanto riguarda L'extra deck Diciamo che È un extra deck Sacrificabile Perché giocando Extrava E giocando Prosperity Si banna sempre Però gioco Comunque una win E visto che ci sono Vento Nel mazzo Un'aerea Visto che ci sono Acqua Ferigit Sempre perché Gioco dei bestialata Quindi Ferigit si può fare E inoltre Contro Dogmatica Per esempio Quando ci fanno Maximus È un peschino Gratuito Perché Con Maximus Mandiamo al cimitero Ferigit Per pescare Una carta Quindi E poi rimetterne Un in fondo al mazzo Però magari serve Per sbriccarsi la mano Stesso discorso Vale per Schurig Questo Sempre Come target Di Maximus Se ci viene fatto E Avendo almeno Un bestialata Ci permette di prendere La migrabbrezza Che serviva in mano E Questo per quanto riguarda Link Comic Seeds Un stormo Recitante Un Usignola Assemblato Un tordo Promenade Che sono Diciamo I tre Rilusk Bastanza utili Per questo mazzo Con questo Possiamo cercare Per il Per un eventuale Turno Dopo Se abbiamo Briccato Comunque C'è stato qualcosa Che non è andato bene È possibile Fare lo storno E A darsi Quello che serve Con Usignolo È comodo Magari Per fare danni Se abbiamo L'occasione Di avere sul campo Due o tre Migrabbrezza Senza aver usato I loro effetti Quindi possiamo fare Special dall'extra Comunque Special in generale È carino Fare questo Attaccare diretto Poi Main 2 Fare altre cose E Tordo Promenade Serve per togliere Di mezzo Magio Trappole Scomode Magari scoperte Che controlla L'avversario Poi Una maga Pasticciona Da fare Sopra Loro tre Principalmente Sopra Usignolo Assemblato Penso che Può attaccare Diretto In main 2 Facciamo Maga Pasticciona E poi Zeus Che Torna Utile Ieri Per esempio L'ho fatto Due volte In torneo Con un po' Di brick Un po' Di mani brutte Un po' Di match up Magari Particolari Sono riuscito A fare Zeus Ed è stato A volte Risolutivo Poi Questa qui È sempre Come target Se l'avversario Gioca Maximus E tre Cyber Dragonova Che servono Per portare Meciaba E Obice Allora Meciaba È per avere Roneghini In campo E Obice Invece Per avere Una carta Che comunque È immuna Agli effetti Delle altre Carte In main Può fare Mille danni Quindi Diciamo che Mi piace Abbastanza Come carta Da tenere Nell'extra E Per finire Nel caso Cyber Caccia Cyber Drago Un drago Mega Flotta Chimeratek Tanto È un extra Come vi dicevo Prima Che è Sacrificabilissimo Di solito A primo turno Se gioco Prosperity Banno queste qui Poi se so Magari che L'avversario Gioca Gioca Dogmatica Preferisco Bannare Il reparto Zeus E le due Amagliatrici Se invece Sono sicuro Che l'avversario Non gioca Dogmatica Banno direttamente Queste E sto tranquillo Tanto Queste non servono A niente E questo È l'extra Deck E concludiamo Con La side Un Simorg Nero Contro Eldriss Tutti i mazzi Che settano Un Raijeki Abbinato All'altre Due copie Di Dark Ruler Questo Mazzo Non può Smontare Le board Quindi Dopo Che ho Fatto Dark Ruler Mi Servirebbe Qualcosa Per Spaccare La board Del tutto E Questa Carta Raijeki Molto Spesso Me la son Trovata Appunto L'abbinamento Mi piace Dark Ruler Nego tutto Raijeki Spacco tutto Anche Dragoon Viene spaccato Con Raijeki Quindi Perché no Poi Due copie Di Turbini Gemelli Twin Twister Due copie Mi piace Così Non Aggiungerei La terza Perché Gioco Anche Due E Ritorno Questa Carta Nell'eventualità Ci sia Qualcosa Che Magari Non Vogliamo Spaccare Coperto Oppure L'avversario Gioca Signore Quello Da Prigione Del Cielo Che Impedisce Di Spaccare Le Carte Settate Con E Ritorno Le Facciamo Tornare In Mano Due Essenza Antimagia Contro Sky Striker E Mazzi Che Giocano Magie E Abbinato Simog Nero È Abbastanza GG Visto Che Simog Non Permette Di Settare Essenza Antimagia Per Attivare Le Magie Devi Prima Settarle Non Puoi Prendersi Un Turno In Più Contro Mazzi Che Giocano Con Gli Effetti Dei Mostri E Barriera Dimensionale Stesso Ragionamento Per Prendersi Un Turno Più Contro Mazzi Che Giocano Sincro Prendi Swarthall Prendi Virtual World Con Barriera Dimensionale Si Ruba Un Turno Anche Contro Invoked Si Dichiara Fusione Non Può Fare Fusione Contro Diciamo Che Tre Copie La Tempesta Di Piume Essendo Che Non È Detto Di Avere Un Bestelata Vento In Campo Due Secondo Me Sono Già Abbastanza Tanto Con Prosperity Duality Se Serve Si Trova Salta Fuori E Niente Ragazzi Questa È Niente Vi Saluto Ci Vediamo Alla Prossima Decklist Ciao